per me eccoci ritenati nell'ultimo episodio di city skyrim no non è vero si spettano se è la fine di penumbre se non vuoi essere ok no vedi venite venite a portare guarda indietro fare l'uomo troppo quando erano piangere vado al culo per la merda di gioco 6 mi ha messo un sacco ah sono quelli di penumore over tour no no è black blackpick che noi non faremo perchè io voglio giocare solo amnesia ragazzi avete capito abbiamo finito penumbre over tour questo video sarà di pochissimi secondi ma intenso si sapete perchè è finita è finita ah ok cantiamo qualcosa cantiamo qualcosa cantiamo qualcosa per quante minuti abbiamo quanti minuti abbiamo niente abbiamo fatto un minuto di vai allora cantiamo non pensavamo a durare così poco ok va bene no non cantiamo niente cantiamo la sigla di skyrim no 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 nonchietti no cosa vuoi cantare niente voglio parlare con i ragazzi che ci stanno guardando posso ragazzi allora è finalmente finita penumbre over tour finalmente forse faremo gli altri episodi non ora in un futuro ipotetico ma quello che è certo è che adesso inizieremo a fare le custom di amnesia custom corte e molto spaventose mamma mia altro che cani ragazzi altro che cani bro incontriremo solo dei bro va bene quindi niente se vi è piaciuta questa serie se vi è piaciuta penumbra anche se effettivamente è durata davvero tanto mettete mi piace anche a questo ultimo video e continuate a seguirci nelle nuove serie che arriveranno e approderanno nel nostro canale ok da gentubers è tutto iscrivetevi commentate se vi è piaciuta la serie mettete mi piace ci vediamo nel prossimo episodio di amnesia ciao ragazzi